bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi una bella dose di news per il futuro del nostro fortnite nel video di oggi parleremo di un bel comunicato che ha fatto ninja un chiarimento su lime assist un bel argomento di cui si sta parlando in questi giorni e ovviamente anche un bel po di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite volevo subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop usando il mio codice creator xyuderone grazie mille a tutti i ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle 13 30 ma parleremo anche nel video di oggi della mappa dei punti esperienza bellissima ho pescato una mappa meravigliosa che vi sarà molto utile per livellare un pochettino il vostro personaggio in quanto ci sono segnati tutti i punti esperienza quelli gialli quelli verdi quelli viola in mappa e appunto anche altre notizie interessanti un bel concept che voglio farvi vedere ma prima comunque la domandina non può mancare sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto curiosa ma qual è stata la tua kill più bella dai pensaci un attimo la miglior kill non si dimentica mai io me la ricordo ancora eravamo in season 6 o in season 7 no in season 7 perché erano appena arrivati gli aerei lande letali siamo in team rimango da solo un altro del loro team piglia l'aereo e parte lo miro col barre tiaglia arriva in testa in volo in movimento eccezionale me la ricorderò per sempre dimmi qual è stata la tua più bella qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande che vanno le ciance andiamo subito ragazzi attenzione a parlare di una roba super importante e qua voglio attenzione il canale youtube fortnite fanni magari non lo conoscete però a 3 milioni di iscritti quindi anche magari involontariamente se cercavate qualche clip divertente di fortnite potreste averlo guardato che cosa è successo è stato hackerato pesantemente questo a noi che ci frega ci frega e come perché gli hanno caricato un sacco di video e vi invito a non entrare in questo momento in nessuno dei suoi video che come vedete non c'entrano con fortnite ovviamente non cliccate su nessun link che sia presente nella descrizione o da qualsiasi parte potreste appunto perdere i vostri dati personali quindi mi raccomando grande attenzione prima di tornare sul canale per vedere un po di roba divertente il canale si chiama fortnite fanni mi raccomando e andiamo avanti ragazzi vedendo subito un bellissimo concept perché vi faccio vedere questo concept perché su reddit sta spopolando pesantemente e non è la prima volta non sarebbe la prima volta che epic games prende un po di spunto da qualcosa che gli utenti regalano o propongono sui propri forum abbiamo visto un sacco di skin che sono state poi portate in game e devo dire che a me piace tantissimo questo questa copertura che si chiama ocean quindi oceano tanta tanta roba sullo scar li sta un botto bene è ovviamente animata come potete immaginare speriamo di vederla in game perché a me piacciono davvero tantissimo le coperture e questa sarebbe una figata incredibile ma andando avanti ragazzi voglio farvi vedere un'altra immagine interessante che ci fa parlare di uno degli argomenti più caldi di fortnite di questi giorni ovviamente gli elicotteri il nuovo veicolo che tutti stiamo aspettando finalmente per tornare a muoverci in maniera un po più fast nella mappa perché vi faccio vedere quest'immagine perché come vedete siamo a parco pacifico e porca di quella porca di quella porca nel bunker c'è una pista di atterraggio per gli elicotteri questo che cosa vuol dire vuol dire che molto probabilmente una volta che arriveranno gli elicotteri in game o forse quando saliremo su un elicottero sotto terra potrebbe aprirsi qualcosa magari si apre dovremmo essere sotto il campo da calcio se non sbaglio potrebbe aprirsi e uscire l'elicottero e tanta tanta roba ragazzi vi ricordo che abbiamo già dei suoni in game degli elicotteri abbiamo anche delle informazioni non spareranno quindi tranquilli porteranno i passeggeri avranno il boost quindi il nostro in poche parole come tutti i veicoli su fortnite faranno un danno di 100 ai giocatori avversari se dovessimo andarci contro di 450 alle strutture quindi attenzione tanta tanta roba non vedo l'ora di vedere un'immagine ufficiale perché ancora non ce ne sono proprio neanche caricate quindi un grande mistero e speriamo che magari con la pace che dovrebbe arrivare questa settimana la 12.20 vedremo l'arrivo degli elicotteri in game e andiamo avanti ragazzi perché c'è un altro argomento molto interessante e allo stesso tempo controverso vi leggo in inglese quello che c'è scritto it seems that the grotto was always teased to become a shadow base perhaps our choice don't impact the changes matches we thought cosa vuol dire vuol dire che praticamente questa è un'immagine un pezzettino di immagine ve lo faccio vedere un pochettino più in grande in modo che ci capiamo meglio questo è un pezzettino di immagine preso dai teaser della season numero del capitolo 2 della season 2 che cosa voleva dire quella frase voleva dire che in realtà non importa quello che scegliamo per la gente che sia nelle ombre o che sia per gli spettri perché sebbene sappiamo che tutte le location in game dedicate agli agenti verranno man mano cambiate come ad esempio appunto la grotta che ha sulla parte laterale il teschio non dipendono in realtà dalle nostre scelte questa immagine ci fa chiaramente vedere come era già tutto prestabilito che la base della grotta diventasse appunto delle ombre quindi è un peccato perché era un'idea veramente molto molto carina e purtroppo niente da fare hanno già deciso quello che devono fare probabilmente si collegheranno alla storyline della season 3 di questo capitolo 2 che vi ricordo arriverà il 29 aprile e andiamo avanti ragazzi guardate che meraviglia questa immagine è davvero tanta tanta roba perché ci sono segnati tutti i punti xp e i più importanti ragazzi sono quelli viola no perché ai punti xp viola sono quei bottoni che girano che una volta presi si spezzano e rilasciano un sacco di monete quindi io vi consiglio vi mettete lì belli comodi un giorno cominciate dalla parte in alto e vi sparate rastrellando tutte le caselle i vari punti esperienza in modo che siete aggiornati anche perché se non ricordo male vengono aggiunti man mano che si va avanti con le settimane nuove monete per prendere i punti esperienza quindi davvero un sacco di un sacco di roba come vedete è stata aggiunta anche la moneta xp gialla quella che dà 10.000 punti esperienza direttamente lì al pozzo insomma ragazzi anche qua molto interessante e volevo soffermarmi un secondo prima di salutarvi su una clip molto breve che arriva direttamente dal nostro ninja ascoltate quello che ci dice lui direttamente questo è interessante lui ha detto praticamente c'è un grande dibattito in questi in queste ore praticamente il discorso della legacy abbiamo già fatto un video ieri vi invito ad andare a dargli un'occhiata per approfondire cioè è chiaro che siamo sbilanciati sui server di pc per chi utilizza il controller per chi utilizza mouse e tastiera toglieranno la legacy e metteranno la lineare questo vuol dire in soldoni che è più difficile per chi gioca da controller andare a impattare a fare delle hit importanti ad un avversario quindi non verrà diciamo più mirata proprio la testa del giocatore avversario ma servirà un pochettino più di abilità questa cosa però come dice ninja non è da intendere per i giocatori da console perché lì non dovrebbe essere assolutamente toccato nulla in quanto ovviamente giocano già tutti da controller ha senso sì mettere mouse e tastiera su console però no in realtà perché c'è appunto lame assist che non verrà toccato per i giocatori da console quindi si parla solo ed esclusivamente per giocatori che utilizzano un controller sul pc insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news che c'erano ve le ho dette incrociamo le dita e speriamo che questa settimana arriverà la patch 12.20 io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao